...dalla formazione, attenti! I titolari di domani sono questi. In porta, Wokashibasu. Mi hai sentito? Sì, mister. In difesa, Imai. Sì. Kawabe. Sì. Takashi. Sì. Furuka. Sì. Al centrocampo, Shimano. Sì. Toike. Sì. Matsuki. Sì. Sawada. Sì. In attacco sulla fascia destra, Solimachi. Sì. E in attacco sulla fascia sinistra... Koshiro Hyuga. Sì, mister.